Salve a tutti e grazie a tutti per il mio canale Oggi vedremo questo Tyrannosaurus Rex da Tamiya e mi piace molto devo dire il diorama nel diorama ci sono i dettagli direi è già incluso nel kit il Tyrannosaurus Rex non mi preoccupate non è che l'ho fatto io a parte è inclusa la base ovviamente è da colorare e non c'è questa texture l'ho aggiunta io con i cosi a K Terrain che sono molto utili quindi qui abbiamo il Tyrannosaurus che mi piace molto ha questa tonalità che ha la paleoarte di Zoosparkle e mi piace molto qua è l'interno della bocca vabbè il Tyrannosaurus è questo in pratica mi piace molto e c'è un perno diciamo tre perni che ho coperto ovviamente per incastrare la zampa del modellino in pratica sotto a una specie di perno che si incastra sui bugli sono molto soddisfatto di questo diorama e niente credo che magari più in futuro ne ho comprato un altro o cose così spero di visibli ciao